Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana nel delicato passaggio della campagna da zona gialla a zona rossa il dispositivo dei controlli volti a verificare rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid. In totale tra venerdì e domenica sono state controllate su tutta la provincia 639 persone e 124 attività commerciali, 26 le sanzioni complessive. In particolare il gruppo pronto impiego di Napoli ha sanzionato i titolari di due caffetterie nel quartiere Soccavo poiché non esponevano all'esterno il cartello indicante il numero massimo dei clienti ammessi nel locale e 5 persone fra i quartieri di Posidipo, Chiaia e la zona porto che non hanno fornito alcuna giustificazione per la loro sortita. Gli stessi baschi verdi hanno sanzionato nel rione Traiano due soggetti a bordo di un'auto per violazione al collice della strada e poiché erano sprovvisti di mascherine. Il secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli ha sequestrato in un negozio di San Giovanni a Teduccio gestito da un cittadino di origine cinese oltre 10.000 mascherine, 1.200 occhiali protettivi, 920 visiere, 135 termoscanner, 2.454 accessori di ortopedia e 804 colle stick. Tutta la merce era priva della marcatura CE, di conformità e delle indicazioni in lingua italiana. Lo stesso reparto nel quartiere San Ferdinando e nella zona porto ha sanzionato rispettivamente il titolare di un pub e un dipende dento in nero di un barco e che non indossavano la mascherina.